Cari amici di pianoconcerto.it, buongiorno. E benvenuti ancora a questo nuovo video che intitoleremo Regolazioni personalizzate del pianoforte. Grazie a tutti veramente per i complimenti e questo ci incoraggia a continuare, ma attenzione, noi sottolineiamo sempre che il video, il tutorial non può senz'altro sostituire una lezione pianistica oppure un insegnamento o un corso per diventare tecnici di pianoforte e così via. Oppure non ha la pretesa di preparare un esame di solfeggio, oppure di far conseguire una laurea in ingegneria del suono e così via. Però ci sta molto a cuore tutto ciò che è il raccordo tra le conoscenze, cioè a me in particolare sta a cuore, come sapete bene, mettere in correlazione il buon funzionamento dello strumento e quindi gli interventi ai quali bisogna essere attenti con la tecnica pianistica. Quindi faremo anche altri video poi seguitando così, seguitando il filone della tecnica pianistica e del gesto pianistico. Anche qua mettere in relazione, questo non spetta a me ma spetta al maestro Simone Renzi, di curare tutto ciò che è l'ingegneria del suono pianistico e non solo. A questo proposito c'è così in mente nostra un progetto di incontrarvi però prima o poi. Adesso la famiglia è arrivata a 3 mila iscritti, molti ci incoraggiano e ci chiedono di fare degli incontri, chiamiamoli incontri, non vogliamo parlare né di lezioni né di conferenze, ma degli incontri in cui si possa approfondire qualcuno di questi argomenti, sia in sede di tecnica pianistica, magari con qualche audizione, sia per quello che riguarda la regolazione e la preparazione, insomma il buon funzionamento in genere, compresa l'accordatura del pianoforte e per quello che riguarda appunto tutta la complessa, il complesso mondo dell'ingegneria del suono. A questo proposito vi incoraggiamo, vi chiediamo di segnalarci tramite mail o forse sarà fatta una sezione apposita, dove potrete segnalare qual è il vostro interesse primario ora e quale città principale che rappresenti nord, centro o sud Italia voi possiate raggiungere in un paio di giorni, insomma per essere un paio di giorni con noi. Da questo noi potremmo vedere di scegliere almeno tre o quattro poli, città importanti dove potremmo stazionare e incontrarvi e ripetere così questi incontri. Quindi vi attendiamo. Un'altra cosa che vi chiediamo se vi piacciono questi video, queste nostre iniziative che mettiamo su YouTube, di poterle condividere su Facebook, credo che sia una cosa opportuna se vi piace. Bene, oggi quindi parliamo delle, il titolo è regolazioni personalizzate, ma qualcuno dirà sia tecnici che pianisti, ma noi sappiamo che le regolazioni le detta la casa costruttrice, quindi già ogni casa costruttrice è vero, da determinate specifiche e ci suggerisce come regolare quel tale modello e con quali distanze tra le parti meccaniche. Questo è vero, diciamo che senza questa personalizzazione non vuole allontanarsi troppo da queste specifiche, ma vuol far capire, alterando più o meno, modificando, che è un pochino più vicino all'alterazione, modificando leggermente queste specifiche, quali sensazioni il pianista può provare suonando o quali obiettivi può raggiungere più facilmente. Quindi c'è un doppio scopo nel capire queste regolazioni personalizzate. Uno nell'individuare quando lo strumento è completamente fuori regolazione, perché? Perché certe distanze, certe regolazioni, certe specifiche sono molto lontane da quelle che è detta la casa. E secondo, invece, cercare di volere, di chiedere, di richiedere un tipo di regolazione personalizzata per raggiungere determinati obiettivi nella letteratura pianistica. Allora, ricordiamo brevemente adesso, voglio dire, diciamo subito che, certo, sul pianoforte a coda questo tipo di regolazione personalizzata o di regolazioni personalizzate appaiono più sensibili, appaiono più importanti. Un po' meno si può fare sulla meccanica del pianoforte verticale. Questo poi vedremo perché. Restando al pianoforte per eccellenza, cioè la meccanica che lavora per gravità, quella del pianoforte a coda, riepiloghiamo brevemente, proprio brevemente, quali sono le specifiche all'ingrosso standard che un po' tutte le case consigliano. Ecco, quindi, innanzitutto, quali sono le distanze principali, più importanti che noi dobbiamo verificare? Uno, distanza martello-corda, distanza della testa del martello dalla corda. Due, il punto in cui, il momento in cui il martello, cioè il montante di scappamento, esce dal rullino e il martello scappa, scatta vicino alla corda. Tre, dopo aver scattato, la distanza dalla corda di caduta del martello, dopo aver scattato vicino alla corda. Quattro, la parata, cioè la distanza del martello-corda nel momento in cui la coda del martello viene accolta, viene parata nel colpo forte, ovviamente perché nel colpo debole ciò non avviene, nel colpo forte avviene, dal paramartello. Quinto, l'energia con la quale il martello risale grazie a questa leva che si chiama leva di ripetizione e che permette al montante di scappamento di riposizionarsi sotto il rullino ancora prima che il tasto venga, ritorni in posizione di riposo. Questo naturalmente permette al pianista di ripetere una gran quantità di colpi, di ripetizione, senza ritornare sempre in posizione di riposo del tasto. Quindi rende la meccanica molto rapida. Allora, ecco, vediamo subito, proprio modificandola, ma, certo, non vi posso tramite video trasmettere la sensazione, però potete provare, questo potete provare a farlo voi su un modello o soltanto su un tasto, soltanto su un tasto, magari centrale al pianoforte. Allora, vediamo di modificare subito la distanza, la prima distanza di cui abbiamo parlato, cioè la distanza martello-corda. Allora, quando la distanza del martello-corda, che in genere è di 45 mm, 45-47 mm, giù di lì, può essere portata a 4,3 o addirittura a 4,2, cioè più vicino alla corda, che sensazione abbiamo, che vantaggi abbiamo, che svantaggi abbiamo? Ma sicuramente, essendo la corsa che deve percorrere il martello più breve, potrà anche diminuire la corsa del tasto, e quindi meno articolazione. Essendo minore la corsa che deve percorrere il martello, minor peso, quindi avremo una sensazione, anche se poi ha la misurazione, il peso dallo stesso, ma avremo una sensazione di minor peso della tastiera, in generale. Inconvenienti? Beh, inconvenienti sicuramente avremo un attacco meno forte, meno potente, meno eclatante, quindi una maggior rapidità, per esempio per una sonora di Scarlatti andrebbe molto bene, una sonora di Scarlatti molto leggera, molto rapida, mi viene in mente la toccata, dove c'è tutte quelle note ribattute, le note ribattute vengono avvantaggiate in questo senso, perché la forza della molla può essere anche un pochino ridotta, la parata del paramartello può essere avanzata, quindi ripirochiamo sensazione di minor peso al tasto, aumento di velocità del martello e un minore rendimento sull'attacco. Invece allontaniamoci dalla distanza standard, da 45 potremmo andare o trovare spesso, magari per lo schiacciamento delle parti della meccanica, del rullino, nel tempo magari potremmo trovare un martello che dista 50 da una corda, spesso si trova 49, innanzitutto qualche volta, anzi qualche volta spesso, dato che l'affondo rimane inalterato, il martello non scatta più, vi faccio vedere. ecco, abbassando il martello, vedete, fa fatica a scattare vicino alla corda, vorrebbe ancora più a fondo, perché ricordiamo bene, abbiamo parlato nel video delle regolazioni, c'è un ben preciso rapporto tra la distanza martello-corda e l'affondo del tasto, la misura dell'affondo del tasto. Quindi sarebbe insufficiente, quindi dovremmo essere portati ad aumentare, a togliere delle rondelle di carta qui ed aumentare l'affondo del tasto, quindi l'articolazione diviene più difficile, la sensazione che il pianista ha col peso, con la gravitazione e la ricerca del fondo del tasto con l'appoggio dell'avambraccio, insomma, è molto più difficile, perché la distanza che deve percorrere il dito e il peso è maggiore. Quindi tutto si fa più difficile, eventuale vantaggio, eventuale vantaggio che avremmo veramente una potenza sonora maggiorata, però tutto molto più difficile, ma soprattutto quando troviamo sbilanciata la misura della distanza martello-corda con quello dell'affondo, non riusciamo a ottenere quello che la meccanica di pianoforte a coda ci deve fornire, cioè proprio la sensazione del doppio scappamento e quindi vedete che la meccanica è abbastanza bloccata, abbastanza attaccata verso la corda. La seconda distanza è importante, adesso riportiamo il martello a una distanza standard, per esempio 45, eccolo qui, 45. Poco di più. Misuriamo. Vedete? 45. Seconda distanza importante, il punto, il momento in cui il martello scatta dalla corda, cioè il momento di scappamento che avviene mediante lo scappamento del montante di scappamento che lascia il rullino, vedete bene, no? Lascia il rullino e leva energia al martello, cioè fa montare, ecco perché è montante, fa montare il martello fino a un certo punto e poi lo lascia. Alcune case danno addirittura precise specifiche, dicono 3 mm sui bassi, 2 sui medi, 1 sull'acuto, o perlomeno una cosa importante che viene detta e vedremo che crea se no questo inconveniente sui bassi, non meno, non meno dello spessore della corda. Cioè, la corda dei bassi, le corde più grosse, dei bassi più profondi, dei bassi gravi, hanno un certo spessore. diciamo che la casa suppone che in quel punto la vibrazione, l'oscillazione della corda sia del doppio quasi dello spessore della corda. Quindi il martello scattando troppo vicino e cadendo troppo vicino alla corda potrebbe vibrare e tenersi a contatto della corda mentre questa uscilla. Quindi non meno dello spessore della corda, dei bassi. Alcune case insistono sui medi e sugli acuti sul millimetro perché il millimetro permette al pianista con qualsiasi tocco in qualsiasi modo di suonare di realizzare il pianissimo. La caduta standard abbiamo detto è un paio di millimetri, un millimetro e mezzo quindi in tutto il martello quando scatta e cade vista dalla corda circa due millimetri e mezzo tre millimetri. Questo fa i conti però poi con la forza della molla che fa risalire il martello. Quindi che cosa succede invece se io regolo questa distanza più vicino più vicino alla corda alla corda ecco quasi a contatto della corda innanzitutto avverto meno lo scappamento lo scappamento del montante perché questa distanza cioè la distanza di affondo del tasto diventa un pochino insufficiente perché diventa insufficiente perché in realtà aumenta la corsa del martello cioè dal punto di riposo fino al momento in cui scappa la distanza aumenta quindi c'è questo svantaggio e per esempio nel tocco pianissimo se sto a meno di un millimetro nel tocco pianissimo nel far cadere le dita con il proprio peso tipico della musica francese nel pianissimo ho l'impressione ho la sensazione che il martello rimanga attaccato alle corde che neanche cada poi così tanto benché vedete la caduta c'è il martello se invece se invece qual è però il vantaggio scusate miro qual è però il vantaggio il vantaggio è che certo posso posso arrivare a fare qualsiasi tipo di pianissimo quasi quasi spingo non devo dare nessun spingo spingo la tastiera spingo un accordo e quello suona una cosa che è anche un po' innaturale che potrebbe incoraggiare il principiante ma che per il pianista esperto diventa veramente innaturale se invece noi ci riallontaniamo troppo facciamo facciamo scattare il martello a 3 mm per esempio non riusciamo più sentite non riusciamo più a fare il pianissimo non riusciamo a fare più il pianissimo quindi abbiamo una la sensazione di una tastiera solida che richiede un'articolazione sincera potrebbe anche essere una buona tastiera da lavoro per coloro che sostengono vogliono un po' lavorare sull'articolazione pensano che tutto debba essere ben articolato quindi potrebbe essere una buona ma devono rinunciare alle mezze tinte al pianissimo quindi ai vari tipi di tocco è una tastiera che con uno scappamento a 3 mm si può lavorare con molto peso quasi con pressione e con articolazione quindi rimettiamo adesso ecco scusate che controlliamo caduta ecco ho un altro elemento importante di regolazione abbiamo detto è dopo lo scappamento che deve avvenire circa un millimetro due abbiamo detto è la caduta del martello cioè dove il martello si va a riposare sulla leva di ripetizione non sul paramartello beh certo che se questo aumenta vedete aumenta il martello diventa molto poco preciso e il montante di scappamento fa molta fatica a rimettersi a rimettersi sotto bisogna alzare il tasto quasi dei due terzi e poi è molto vicino alla parata come se le due funzioni poi fossero quasi una sola più sono lontane tra loro e più hanno una ragione di esistere perché se io abbasso notevolmente portiamo all'eccesso questa cosa no addirittura non distingo più la parata dalla caduta quindi in questo non c'è nessun vantaggio c'è solo svantaggio diciamo che la caduta deve essere di un paio di millimetri e basta al massimo e certo senza buonsenso qualcuno potrebbe dire sì ma io rinforzo la molla e quindi il martello sale più rapidamente e la leva il montante di scappamento si rimette sotto il rollino ma fa comunque fatica fa comunque fatica riportiamo un attimo le cose come dovrebbero stare ecco e vediamo l'inverso cioè se il martello cadesse pochissimo quasi niente vedete abbiamo l'annullamento addirittura dello scappamento ma andiamo man mano ecco adesso quasi niente quasi niente e succede che dopo aver parato con una molla di media consistenza di media regolazione il martello potrebbe saltare e ribattere sulla corda quindi diciamo che questa differenza delle ultime due di cui ho parlato è una regolazione molto più obbligata cioè la caduta non si può allontanare molto da da un millimetro può andare a due 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 qualche cosa e può diventare una tastiera un po' più difficile e più da lavoro quindi riepiloghiamo ecco riepiloghiamo sui miei appunti che feci tempo fa in serie di ricerca che forse mi aiutano a riepilogare bene più vicino di un millimetro e mezzo tocco più facile nel pianissimo richiesta di minore a fondo e però ci può essere la il pericolo del tremolio del martello sulla corda quando la molla riporta sul martello se fosse maggiore se fosse maggiore si traduce addirittura in un tocco ancora più difficile perché abbiamo detto che la leva il montante di scappamento fa fatica a riposizionarsi sotto riullino quindi una richiesta di maggiore articolazione e anche una maggiore ecco questo è importante una sensazione di maggior durezza di maggior presenza del momento di scappamento sotto al dito perché la caduta evidenzia questo momento la distanza di parata la distanza di parata questo è molto importante la distanza di parata cioè del paramartello è quasi sempre intorno da un centimetro e due millimetri un centimetro e cinque centimetri e mezzo 15 millimetri lo standard in genere è 15 millimetri se lo riportiamo molto giù il martello fa fatica addirittura ad aggrapparsi se lo portiamo troppo su fa fatica ancora ad aggrapparsi ma si riconfonde come abbiamo detto con la funzione di caduta il martello non capisce il tasto il pianista la sensazione non capisce se è troppo vicino addirittura fa fatica ad a bloccarsi un'altra cosa importante è l'inclinazione del paramartello rispetto alla coda le due tangenti della curva della coda e la tangente alla curva della coda nel momento nel punto in cui il martello si attrappa si 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 blocca si para deve essere parallela alla alla linea alla linea del paramartello la linea esterna del paramartello qui vediamo un solo un certo tipo di paramartello che però in alcune marche può essere più sagomato questo per permettere ma anche la coda la coda è sagomata in modo diverso quindi ci sono diverse tipo diversi tipi di sagomatura delle code e diversi tipi di guarnizione in pelle del paramartello sicuramente personalizzando un pochino questa regolazione e facendolo parare un pochino più in alto ma non troppo viene facilitata la ripetizione questo sì ecco questa è l'unica cosa che si può dire viene facilitata la ripetizione perché il martello deve fare con la molla meno corsa deve essere spinto per una minore distanza per poter permettere alla leva al montante di scappamento di riposizionarsi sotto a rullino vorrei dire qualche cosa adesso sugli smorsatoi e poi passiamo un attimo a vedere a riassumere un po' tutto questo sul verticale brevemente rapidamente sugli smorsatoi allora ci sono molte indicazioni delle case chi dice dopo la metà della corsa del martello un po' prima della metà insomma intorno a metà corsa del martello il a metà corsa del martello il il feltro degli smorsatoi deve lasciare le corde che cosa si ottiene e qual è la sensazione qui si può questo è molto evidente e si può agire molto bene su questo a seconda del se ci allontaniamo da questo standard di regolazione beh se lo smorsatoio parte non diciamo di quanto parte più tardi rispetto alla metà della corsa del martello sicuramente faremo più fatica a fare il legato il tocco sarà più chiaro minore sensazione di peso sul tasto perché ovviamente quando il tasto va giù e il martello sale si somma a tutto il peso della meccanica e non ultimo a quello del martello anche il peso dello smorsatoio che si alza quindi prima lo smorsatoio si alza e prima si somma questo peso più tardi si alza e più tardi si somma questo peso con sensazione di minor peso totale sensazione dico perché poi al tasto il peso è lo stesso quindi facendolo partire un po' più tardi lo smorsatoio possiamo favorire di più lo staccato la chiarezza il non legato compensando con la pedalazione naturalmente quindi per esempio per le sale o per i luoghi d'ascolto che hanno molta reverberazione ebbè non è male far partire gli smorsatoio un pochino più tardi invece la partenza anticipata ci rende tutto più sonoro qualche volta anche troppo in un piccolo ambiente può anche dar fastidio e fatica a fare il mezzo staccato il non legato e lo staccato e difficoltà a gestire la pedalazione quindi ecco questo è molto importante io adesso azzarderei a dare quindi un paio di ricette una ricetta di regolazione meccanica facile rapida precisa ma con meno sonorità per esempio ecco quindi corsa del tasto breve e quindi martelli più vicini alla corda scappamento più vicino alla corda proprio un millimetro poca caduta del martello parata alta parata alta del martello molle normali molle normali perché il martello deve risalire ecco ricordiamo che la regolazione delle molle si fa con l'apposito attrezzo e si scaricano in basso ecco il martello deve salire ma non deve saltare deve salire con decisione ma non deve saltare ricetta inversa ricetta di meccanica difficile cosiddetta da lavoro con maggior sonorità però quindi corsa lunga del tasto che in genere sappiamo parte addirittura nello stemui ma di progetto ma quasi sempre non si può attuare da 9,5 fino a uno standard di 10 qualche cosa anche nei verticali qualche cosa di più e quindi corsa del tasto più ridotta dico più più lunga quindi verso i 10 mm sicuramente anche per il coda 10 10 1 10 2 però maggior corsa del martello rispetto alla corda scappamento momento di scappamento non troppo vicino alla corda abbiamo detto invece con un millimetro un paio di millimetri caduta quindi notevole a un altro millimetro almeno del martello quindi notevole quindi una parata abbastanza bassa abbastanza bassa ecco piuttosto bassa oltre un centimetro e mezzo e una molla però un pochino più un pochino più un pochino più sincera più brillante quindi le pre-regolazioni ecco adesso vediamo questo questo tipo di regolazione un po' personalizzata portata sul verticale dove si può fare un pochino meno perché il verticale è governato da altre forze aiutate dalle molle che non agisse sulla gravità ma sulla verticalità quindi anche qui prevale il rapporto ecco diciamo proprio sommariamente prevale il rapporto distanza martello corda con a fondo del tasto quasi sempre la distanza del martello corda martello che ricordo a differenza della coda che non deve poggiare sul filtro di riposo qui deve poggiare sul filtro di riposo è quasi sempre di 45 mm quasi sempre l'affondo è quasi sempre di 10 qui abbiamo logicamente la sensazione di un solo scappamento perché non abbiamo la leva di ripetizione e quindi questo deve avvenire a un millimetro o due dalla corda così come la parata sempre circa a un centimetro e due 15 mm circa anche qui possiamo variare variare mettendo levando spessori levando spessori sulla barra di appoggio di martelli variare la distanza martello corda e però dobbiamo aumentare un pochino l'affondo la tastiera diventerà più difficile ma più sonora sarà più sonora spesso si trovano pianoforti che pianoforti verticali impostati dalla casa su un affondo da 10 mm e si trovano dopo un po' di tempo a 9,5 9,4 e proprio sacrificati e il pianista lì non riesce a fare troppo la differenza tra il forte e il piano cioè a sfruttare un po' troppo a sfruttare le dinamiche sonore quindi bisogna riportarlo a 10 e bisogna controllare il minimo che questa distanza sia 4,5 questa distanza abbiamo detto si può aumentare e si può portare il tasto fino a 10,5 questo si può fare tutto diventerà più sonoro ma più difficile lo smorsatoio qui viene azionato ecco una cosa che citerei mi sta a cuore a dire da un cucchiaino vedete un cucchiaino che ho detto anche nell'altro video è molto importante perché se mal regolato può creare può creare una piccola buchetta su questo feltro anche su strumenti nuovi di recente consegna e impedire il regolare funzionamento di tutto il cavalletto può creare una sorta di scalino proprio sotto al dito qualche volta con il blocco del ritorno del cavalletto sul verticale non c'è molto da dire sia sul verticale che sul coda si può modificare rapidamente l'affondo di tutti i tasti ponendo una piccola per esempio un piccolo spessore sulla barra sulla barra centrale non su ciascun tasto ma sulla barra centrale dei tasti come nel coda abbiamo già detto in altri video di regolazione possiamo modificare in un sol colpo mettendo un piccolo spessore di carta sotto vedete alla alla parte non incollata del feltro di riposo del tasto modificando in un soccolpo diminuendo l'affondo e diminuendo la distanza martello-corda rendendo la tastiera abbiamo detto meno sonora ma molto più facile esperimento che si può fare esperimento che si può fare scusate ogni tanto mi fanno segno che mi appoggio il microfono chiedo scusa e esperimento che si può fare perché la regolazione è facilmente reversibile sia quella che riguarda la maggiorazione dell'affondo cioè non dell'affondo del livellamento dei tasti e quindi conseguentemente dell'affondo sul pianoforte verticale è quella che riguarda in un sol colpo invece la diminuzione dell'affondo e la diminuzione della distanza martello-corda quindi un piccolo accorgimento che mantiene il rapporto giusto a fondo del tasto distanza martello-corda ecco io mi fermo qui come dice qualcuno in televisione mi fermo qua ma come ho detto nell'altro video penso di aver detto tante cose il tempo è passato non me ne sono accorto ma il giorno dopo rifletto sempre che ne avrei voluto dire tante altre però questo è un rammarico ma nello stesso tempo è un vantaggio perché lascia un fronte aperto alle vostre domande le vostre domande che attendiamo con piacere abbiamo sempre il piacere di sentirvi sia per messaggio privato che per post pubblico possibilmente è sempre meglio perché si può rispondere pubblicamente e quindi a vantaggio di tutti lo scopo di questa nostra iniziativa l'abbiamo detto è quello di aprire una discussione una discussione che è sempre pagata e nell'ambito del rispetto delle opinioni altrui questo è molto importante noi ci teniamo molto a questo e vi invitiamo a vivacizzare sempre di più anche se una certa parte ancora dei nostri iscritti sono molto presenti che stanno molto in linea ma tendono più a leggere e ad ascoltare che non a intervenire io vi invito ad intervenire di più anche sulla parte tecnica e sulla parte che cerchiamo di correlare alla tecnica pianistica i prossimi video che faremo comprenderemo la sonata di Mozart del K330 che abbiamo iniziato con il primo tempo già tanto parecchio tempo fa ne parleremo però a proposito del gesto pianistico insomma non soltanto dell'interpretazione del fraseggio dell'analisi ma cercheremo un pochino di riepilogare tutto il formulario il bagaglio del tecnico del gesto pianistico che il pianista dovrebbe acquisire io ho scelto per ora una sonata di Mozart perché credo che Mozart sia l'autore più completo anche se sembra quello più banale più semplice all'ascolto ma è molto complesso esige molta precisione quindi e poi è molto completo dal punto di vista dei gesti pianistici quindi cercheremo di finire il secondo tempo e il terzo tempo bene noi vi lasciamo vi ringraziamo vi ringraziamo ancora ringrazio a nome di tutto lo staff veramente i grandi complimenti che ci fate vi invitiamo ad iscrivervi ancora per chi non l'avesse fatto vi ricordo pianoconcerto.it l'iscrizione è completamente gratuita è tutto completamente gratuito addirittura addirittura se mi è permesso dirlo proprio negli ultimi negli ultimi secondi perché è passato già molto tempo diciamo che io offro soltanto agli iscritti così un incontro voglio dire anche poi vedremo le distanze ma insomma se ci fosse bisogno di un check up al vostro strumento individuare certi problemi importanti che vi possono turbare possono creare in voi una insoddisfazione perenne si può tentare di incontrarci di raggiungervi e di esaminare gratuitamente il vostro strumento d'oltre le spese insomma del viaggio e del raggiungimento questo è molto importante perché può essere a favore anche degli altri iscritti quindi riportare poi questi interventi e questi incontri eventualmente gratuitamente sul forum bene vi ricordo di manifestare i vostri interessi ecco questo al di là della pura discussione che avviene sul forum precisamente e di dirci a cosa vi piacerebbe partecipare a un incontro che parli di tecnica pianistica a un incontro che parli di composizione a un incontro che parli di ingegneria del suono che parli di teoria musicale che parli di tecnologia del pianoforte di accordatura e dove in quale città del nord del centro del sud per esempio gradireste così avvicinarvi questo ci permetterà eventualmente eventualmente di creare dei poli in Italia per poter creare un incontro con voi vi ringrazio ancora e a nome di tutto lo staff e ricordate pianoconcerto.it grazie grazie a tutti grazie a tutti